La notte della musica nel solstizio d'estate, un viaggio musicale attraverso quattro continenti, un'iniziativa senza precedenti che vedrà impegnate 45 troupe, oltre 4000 tecnici di 17 reti televisive, 8 satelliti. Rio de Janeiro, la grande muraglia cinese, i castelli del Galles, le cascate del Niagara, il Giappone, Città del Messico, Granada, lo Zimbabwe, Manhattan, Leningrado, saranno lo straordinario palcoscenico del primo concerto in diretta dal mondo. Firenze è il cuore di questa notte della musica. Dal Salone dei Cinquecento nel Palazzo della Signoria, Pippo Baudo presenterà uno spettacolo di quattro ore con e canti, danze, sussurri, musiche popolari, musiche medievali, jazz, musica classica, brani inediti, eseguiti dai più prestigiosi artisti di tutto il mondo. La notte della musica nel solstizio d'estate, un programma ideato e realizzato da Andrea Anderman. Venerdì alle 20.30 su Rai 1.